oggi vorrei entrare nell'aspetto economico del franchising un'obiezione che spesso mi viene rivolta è proprio questa il franchising è un costo allora io voglio subito precisare una cosa la voce costo è sicuramente inappropriata la parola investimento è sicuramente appropriata perché perché vedete far parte del nostro gruppo significa usufruire di investimenti pubblicitari importanti in tv sui social corsi di formazione di un brand è oramai consolidato di un metodo vincente che ci permette di ottimizzare al massimo i risultati insomma della nostra attività lavorativa sono tutti elementi questi che ti porteranno sicuramente un ritorno economico io posso dire una cosa con certezza che un imprenditore nel settore immobiliare quindi colui che opera autonomamente con il suo marchio investe di più o almeno uguale a quello che investirebbe se si investe di affiliarsi al nostro gruppo